In provincia di Teramo si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Contagi e ricoveri in calo nella giornata di ieri, ma soprattutto zero decessi. Una battaglia durissima contro il coronavirus, quello che l'Asla Teramana sta combattendo ora dopo ora sul territorio. Intanto è operativa la nuova struttura Covid-19, allestita nella RSA di Bivio Bellocchio di Giulianova. Un edificio che era destinato ad altro, ma che da oggi ospetterà fino a 22 pazienti ancora positivi, dimessi dai presidi ospedalieri, con la necessità di trascorrere un periodo di convalescenza sotto stretto controllo. La gestione della struttura è stata affidata ad una cooperativa specializzata diretta da Ersonori. Inoltre la direzione generale dell'Asla, insieme all'unità di crisi aziendale, ha incontrato i rappresentanti del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind, che nei giorni scorsi era stato particolarmente critico nei confronti di alcune scelte dell'azienda sanitaria Teramana durante la pandemia da coronavirus in corso. Alla richiesta del Nursin di programmare con periodicità i tamponi sul personale sanitario e anche sulle modalità per eseguirlo, l'azienda ha presentato il proprio piano, che prevede che la richiesta venga fatta dal direttore dell'unità operativa dove si presta servizio e che nell'eseguire i tamponi gli stessi vengano assicurati anche in assenza di sintomi, entro tempi prestabiliti con esattezza. L'unità di crisi dell'Asla di Teramo ha anche annunciato l'attivazione di una centrale operativa territoriale che consentirà il monitoraggio di tutti i pazienti covid positivi in isolamento domiciliare, anche attraverso forme di telemedicina. L'ultima buona notizia da Teramo riguarda le case di riposo, la De Benedictis nel capoluogo e l'Alessandrini a Civitella, dove sono stati eseguiti 480 tamponi, analizzati 400, e nessuno degli ospiti e del personale fino a questo momento è risultato positivo.